Dopo le croci alcune realizzate con dei legnetti ed altre invece disegnate con gessi sopra dei muretti e all'interno del parco del Pionta ad Arezzo sono comparse delle scritte enigmatiche, alcune con dei chiari riferimenti religiosi. Le strane croci erano apparse qualche mese fa tra i viali dell'area verde cittadina, alcune piantate a terra, altre legate a piante o semplicemente appoggiate su qualche muretto. Era intervenuta anche la polizia locale di Arezzo, che l'aveva rimossa e aveva dato avvio alle indagini. Adesso, lungo la pista ciclabile che da via Laschi porta verso la biblioteca universitaria, hanno fatto apparizione queste scritte. La scorsa estate, anche a buon riposo, lungo l'Arno, erano state trovate croci appesa ad alberi o nel bel mezzo del fiume, assieme a dei sassi impilati come fossero altarini. Anche nella frazione aretina, oltre a queste strane opere, erano comparse scritte sui sassi, frasi della Bibbia, in questo caso alcune del tutto simili a quelle presenti all'interno del Parco del Pionta. Ancora resta ignoto il significato di queste croci e di questi strani disegni.